Allora, vuoi che... parlo con Paola Mabini? Meglio che fai più bella figura. Faccio più bella figura. Tu e lei. Allora, va bene, diciamo qualcosa di intelligente. Proviamo. Proviamo. Allora, tu hai scritto un romanzo davvero superbo. Grazie. Perché io non ti devo una lira. No, è fatto. Ecco, lo dico proprio perché è la verità. E poi, al di là della tua capacità di scrittura, che è una scrittura, adesso non dire cinematografica, una sceneggiatrice, è già la seconda bananità che ho spesso. Ma dillo, dillo, dillo. Dillo, fatti a dire. Anche perché c'è sempre un po' questo desiderio, neanche tanto inconscio, che possa diventare un film, il libro. Sì, esatto. Ecco, che però è intriso di un'intelligenza emotiva veramente travolgente. Davvero, complimenti. Un libro che consiglio a tutti quanti, non puoi sapere anche l'amore, anche perché hai fatto un'operazione particolare. Cioè, allora, una storia d'amore è una trama, mentre tu invece parti dalla trama per creare la storia d'amore. Esattamente, sì. Ho cercato di fare questa cosa interrogandomi sia un po', perché avendo ormai raggiunto una certa età e quindi una certa esperienza diretta e indiretta su quello che sono i rapporti d'amore. Io personalmente ho tre divorzi alle spalle, quindi qualcosina ne so, però tutte e tre le volte... Ma è battuto. Penso veramente che l'amore sia una cosa che dovremmo smettere di analizzare, di definire, di classificare. E accettarla come una cosa meravigliosa che ci accade o non ci accade, meglio se ci accade, nella vita. E accettarla come un dono che fa sì che due persone, un po' allacciandomi a quello che diceva lui, che non avrebbe alcun senso che stessero insieme tutta la vita, perché è un concetto veramente bizzarro. Però può accadere. Quando accade è una specie di magia. È una magia che però non è una roba soltanto di sentimenti farfalline nello stomaco, ma qualcosa che attiene probabilmente a qualcosa di molto profondo che abbiamo dentro di noi. E quando ti incontri con una persona che apparentemente è la più lontana di tutte dal tuo mondo, però c'è qualche corda che viene toccata, forse magicamente, forse dall'inconscio, forse dal destino, forse dal caso. Ecco, tutte queste domande forse smettiamo di farcele e accettiamolo. E in questo senso io ho scritto questo libro in questo modo. Quindi non una storia d'amore, ma una trama fatta dall'inconscio, dal destino del caso, che porta due persone alla fine, ineluttabilmente, ad accettare il fatto che l'amore è una cosa plausibile. Ecco. Plausibile. Plausibile. Grazie. Grazie.